Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Yuri dopo qualche giorno dopo la partita inter-lasting che abbiamo perso 1-0 e non voglio tanto discutere della partita su questo momento perché i miei pensieri sono altrove ho anche fatto questo video con qualche giorno di ritardo perché volevo un attimino mettere al posto i miei pensieri ragionare bene, sapete che non voglio fare conclusioni o comunque dare voce alla gola senza aver fatto un po' di chiarezza con me stesso non sono sicuro della situazione tutto, Spalletti, situazioni cardi ovviamente parliamo di questo una situazione che ha estremamente rotto il cazzo, ha estremamente raschiato i coglioni perché mai basta, è lunga da mesi è ridicola proprio da tutte le parti, chi ha torto, chi ha ragione non si sa, iniziamo dalla partita dicendo che l'Inter per me non ha giocato male, non ha giocato male perché ha avuto subito un'occasione con Skrini in mezzo all'area di rigore, poteva fare un paio di gol prima che lo facesse l'Azio, noi non li avevamo fatti l'Azio gli ha buzzato dietro, ha fatto un gol subito, poi la partita ha giocato meglio noi, ha giocato 10 minuti in quattro d'ora meglio loro, poi meglio noi, più meglio loro, perciò è smettato un avanti e indietro l'Azio ha fatto gol, non l'abbiamo fatto, l'Azio giocava con attaccanti e noi giocavamo senza attaccanti Keita davanti, dico che Martinez non è una prima punta però è un uomo d'area di rigore che la può fare, Keita non è per me neanche un uomo d'area di rigore, è un esterno d'attacco che ha il vizio del gol, non solo è adattato a seconda punta ma è adattato a prima punta perciò sono due gradini, se già per me Martinez è troppo adattarlo sempre costantemente a prima punta, uno che deve fare addirittura due adattamenti è troppo, infatti ha fallito la prima volta che l'abbiamo messo, in quel ruolo, la seconda volta e la titolare anche questa volta qui, perciò non è una prima punta, ha fatto quello che poteva però si vedono i suoi limiti in quel ruolo, così, ho visto un compaio di cross fatti veramente bene in cui non c'era nessuno in mezzo d'area di rigore anche perché a un certo punto abbiamo tolto Keita e l'attaccante era Vessino mi pare, non mi ricordo neanche chi era l'attaccante perciò te va lì a giocare senza punta, poi Spalletti dice chi è Icardi, cosa può fare, Icardi non cambia niente, non è Messi di Ronaldo e ha ragionissima, non cambia niente, beh sti cancazzi perché avere una punta e giocare con un centrocampista che fa la prima punta, a questo punto lo metti in ranocchia, di nuovo prima punta da solo, era uguale, come fa a dire non cambia niente, si giochi per 80 minuti con un esterno d'attacco prima punta e togli lui e giochi per 10 minuti anche più con un centrocampista come prima punta al posto di una punta, come fa a dire che non cambia nulla, questa è una delle minchiate di Spalletti però non vorrei parlare di questa cosa, vorrei parlare un po' di discorso Icardi, ho voluto fare un momento locale perché inizialmente a caldo mi ero incazzato con Spalletti alla morte perché ho detto come cazzo fai non portarlo neanche in panchina, mi sta bene non hai minuti nelle gambe, per questo finto infortunio ma comunque realmente due mesi che non gioca, non hai minuti va bene ma almeno porto lì in panchina, ha fatto lo stronzo ma lo porti e se hai bisogno lo metti dentro, tipo al secondo tempo Keita ancora non aveva fatto la differenza perciò mettevi Icardi al suo posto a meno giocavi con una punta di ruolo nel suo posto, non l'hai fatto perché non l'hai neanche convocato, ero incazzato, poi dopo penso inizio un po' a riflettere e vedo l'intervista di Spalletti e onestamente non mi viene da dare tolotto Spalletti perché mi dice nell'intervista, ecco, intervista pessima perché comunque dichiarazioni pessime sia in conferenza stampa che a caldo con quelli di Sky eccetera, un po' più pessima perché sono le classiche cose che passi da avere ragione o comunque essere dalla parte della ragione a essere torto netto perché poi attacchi tutti a spada tratta, un po' più con stronzate su stronzate tipo quello che ho detto poche secondi fa e vai automaticamente nel torto però il concetto di base ha ragione nel senso che di base per chi non l'ha vista, per chi non l'ha sentita è se uno deve fare entrare un avvocato e fare una contrattazione, insistere per giorni, settimane eccetera per indossare, avere voglia di indossare la maglia dell'Inter può anche andare a fare in culo così in parole grosse e hai ragione nel senso se io da tifoso interista se io ti devo convincere, fare riunioni, fare entrare in un avvocato per contrattare, metterci d'accordo solo per farti indossare per tre mesi mancanti alla fine del campionato la maglia della mia squadra, onestamente non te la meriti vai pure a fare in culo, puoi essere chi vuoi, non te la meriti, vai pure via. Gli giocatori del genere, vi guardate Balotelli che presa la maglia, la buttò per terra, Balotelli con l'Inter aveva chiuso. Nettamente chiuso, fuori rosa, che tipici era Murigno se non sbaglio, fuori rosa, fanculo venduto, ciao, te non entri più in campo. Perché aveva preso la maglia e l'aveva buttata per terra. Icardi non ha fatto la stessa cosa? Non presentandosi, facendo finta di stare male per due mesi, facendo entrare l'avvocato, discutere, mettersi d'accordo, non ha fatto uguale, non è prendere la maglia e buttarla per terra, non andava più allo stadio, non faceva più un cazzo. Naigolan che ha fatto anche lui una figura del peracottaio con quella telefonata famosa in cui voglio tornare a Roma, farò tutto il casino possibile qui per farmi rivendere a Roma. In tutto sto casino poi pian piano ha messo la testa a posto e ha cercato di recuperare con dichiarazioni, fotografie, erano gli spogliatoi a festeggiare ogni vettore dell'Inter, erano gli spogliatoi quando l'Inter perdeva a tirare sul morale, era in tribuna, ovunque c'era la ingolana, anche adesso. Perciò ha cercato di recuperare e ancora, ancora col peso grosso per i tifosi, però sta cercando Icardi, non si è presentato negli spogliatoi, tribuna, la stronzata del è per sicurezza, è una minchiata perché dai, più sicuro di uno stadio quando sei circondato dalle forze dell'ordine? Icardi abita davanti allo stadio, davanti, tutti sanno dove abita Icardi perché fa le foto dalle sul balcone, tutti sanno dove abita, se ti vogliono venire a prendere, ti vengono a prendere a casa, ti aspettano sotto casa e ti prendono lì. Se non lo fanno lì, non lo fanno allo stadio, dove ci sono forze dell'ordine che ti circondano, abbiamo visto gente, presidenti, sindaci eccetera, che erano veramente fischiati e in zona rossa, pericolosa, andare allo stadio e te Icardi non ci puoi andare, cioè, sono tutte cazzate, no? Perciò, si merita uno così di non avere la maglia dell'Inter, se lo merita. Però poi, anche lì vedo perché c'è la mia confusione in testa, dico, va bene ma, però cos'è il più importante? Una cosa di orgoglio, come cadereci i palletti in questo momento, o bene dall'Inter? Giochiamo contro una diretta concorrente che vincendo con l'Inter è arrivata, cos'è, a due punti, non mi ricordo, due o tre punti, due punti, a pari col Milan e nel campionato ci è di tutto il culo. Adesso non abbiamo più il Milan che ci soffia nel collo, abbiamo anche la Lazio. Fortuna che la Roma fa ridere ancora, come noi, però abbiamo anche questa squadra di tutto il collo, perciò è pericoloso. È meglio avere l'orgoglio e dire, no, vaffanculo, non ci hai convocato, oppure è dire, vabbè, ti convoco, magari se non ti tengo in panchina e vedo come va, ti faccio giocare. C'è questa cosa nella mia testa che non so bene. Di mio, ho semplicità del partito che se uno sbaglia deve stare fuori dai coglioni. Perciò, di base, dico, ha fatto bene i spalletti. Di base, perché, come nei tempi Balotelli e anche altri, se fai dei toti del genere, è giusto che l'allenatore ti metta fuori. Se a livello disciplinare fai un torto grave, anche per l'immagine del club, è giusto. Guarda il Milan, che si ha fatto la sfuriata durante il derby con Biglia, fuori rosa. Non convocato per la partita. Poi Milan ha anche perso, perciò anche loro potrebbero un attimino dire perché che si era fuori. No? Però è giusto così. Fai dei numeri del genere e deve essere fuori. La differenza è che Chiesi ha fatto il numero da una partita. Icardi fa più notizia perché è fuori, ma è da due mesi. Per scelta sua e da derby a questa, più il derby ancora per la questione non sta bene fisicamente e cazzi vari, questa invece è scelta proprio dall'allenatore. Perciò fa un attimino più notizia per la tempistica e il tempo. Poi c'è da dire, va bene, ma Marotta, Zhang devono anche un attimino tenere alto il valore del giocatore perché sicuramente Icardi verrà venduto e devi cercare di ricavarci il più possibile, perciò l'allenatore deve anche stare con la società. Perciò loro hanno contrattato con Icardi per non perdere un valore e per avere comunque la punta da 25 più gol a stagione per gli ultimi mesi per raggiungere i 40 milioni della Champions, che sono i soldi che ti danno, se ti qualifichi, e te all'allenatore lo tieni fuori e metti in rischio la Champions stessa. Perciò chi ha ragione chi ha torto? Chi ha ragione? Ditemi voi, per me hanno tutti torto. Tutti, 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 sono tutti da buttare. Vedete il gioco della torre, chi butterete giù della torre? Con questi personaggi, Inter, Spalletti, Icardi, chi butterete giù della torre? Li butterei giù tutti perché hanno tutti torto al loro modo, perché Marotta ha fatto dichiarazioni pubbliche quando magari era meglio che non ne faceva, però anche la scusante che è arrivato a bordello iniziato, perché beh, è arrivato prima però, questa cosa va avanti da tempo, Spalletti a tutti i torti del mondo, Icardi a tutti i torti del mondo, perché non ci si comporta così in ogni caso, chi ha ragione? Non si sa. Tutti torto anche perché nessuno, nessuno, nessuna delle parti dice a noi tifosi, a tutti che io faccio i video, ma a noi tifosi quello che cazzo sta succedendo? Solo rumor, voci, voci di spogliatoio, vere e non vere, intuizioni, mercato, non si capisce chi ha ancora successo. Perché tanto Icardi non è che è stato fuori rosa per il contratto, perché sennò deve essere fuori rosa da mai da anni, perché ogni sei mesi rompe il cazzo, anche l'anno scorso ha rotto il cazzo due volte, Spalletti non l'ha mai messo fuori rosa, non gli ha mai tolto la faccia da capitano, vuol dire che altre cose sono successe, non credo che solamente perché Peris e Brozovic hanno rotto i coglioni, non è più capitano, qualcosa è successo. Voci dicono Spalletti, erano mesi che faceva il dittatore nella squadra, nello spogliatoio, incazzandosi di bestia, insultando i giocatori, Icardi un giorno si è alzato in piedi per proteggere la squadra e Spalletti, la cui si è attaccato il muro, Icardi si è incazzato, l'ha mandato a fare in culo e da lì Spalletti gli ha tolto la fascia e poi tutto è partito, è vero o non è vero? Non si sa perché nessuno conferma e nessuno nega. Altra voce, Icardi per la questione soldi, bla bla bla, non si può vedere con alcuni giocatori, bla bla bla, tolta la fascia perché ormai questa cosa, quello che dice a sua moglie, continua le dichiarazioni che fa, tic tac eccetera, ha talmente rotto il cazzo a Marotta, società e Spalletti che gli hanno deciso di togliergli la fascia, Icardi come un bimbo minchia si è offeso, non gioco più, è cazzivari, è tutto lì, è tutto il suo torto o è Spalletti o la società che magari gli ha promesso qualcosa, non ha mantenuto e Icardi dice ok voi non lo mantenete, io mi metto fuori rosa, andate a fare in culo. Come funziona? Nessuno spiega niente, nessuno dice niente, perciò è difficile dire chi ha torto, è difficile dire sto con lui, sto con l'altro, perché come faccio a stare contro Spalletti per questa volta, e io sono un antispallettiano, non ho mai capito, che dice dopo quello che hai fatto, quello che hai dichiarato, non sei venuto con noi in coppa, hai fatto quello che hai fatto, poi metti in mezzo l'avvocato che concorda il fatto di metterti la maglia e torni a giocare e io ti devo fare giocare? Che rispetto ho verso la tifoseria che hai insultato e che hai deluso? Verso i giocatori che tua moglie continua a insultare e te anche con i tuoi gesti eccetera e continua a insultare, loro vengono qui ogni giorno a farsi un culo così? Te decidi che per due mesi non ti vengono neanche allenare e ti devo far giocare a titolare? Con che rispetto? Non ti faccio giocare, non ti comboco neanche, non è torto, non è torto, perché fanno così tutti gli allenatori, è questa cosa qui che ha fatto i Cardi, è grave, molto grave, so come fai a dargli torto, però non so neanche bene perché Cardi l'ha fatto, perché a me Spalletti mi sembra una testa di cazzo, perciò, ma si vede anche quando è l'intervista, vai su Sky e insulta tutti a cazzo gratis, cioè io mi ricordo Murigno, Murigno era, è un arrogante, butta lì fracciatine velenose di continuo, però lo fa bene, lo fa con una strategia, va lì con un copione che si prepara mentalmente e sa che bottone andare a toccare per creare i suoi, le sue cose, no? E poi lo fa verso se stesso, l'attenzione di Murigno nella squadra è tutti contro di me, Spalletti invece è l'opposto, è l'attenzione di tutti contro gli altri, tutta la squadra dietro, c'è stata, anche questa uscita qua che ha fatto, la trattativa è stata ridicola, chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Marotta, botta contro Marotta per l'ennesima volta, perciò, qui va su Sky dicendo, tanto non c'è neanche un intervista lì e sta parlando con Bergomi, perciò, per dire, vai anche a essere irrispettoso vecchio verso un ex capitano storico dell'Inter, non è che fa frecciatile come Murigno, è arrogante ma stupido come la merda perché proprio passa dalla parte della ragione al torto in un secondo perché vuole esagerare, non lo so, non so cosa credere, dico sicuramente che questa cosa ha veramente rotto i coglioni, sono contento che magari adesso con il Genova torna in campo il card è comunque in panchina, è convocato, poi magari non lo fa giocare per niente, perché mai Spalletti è nella testa di cazzo così, però ha torto, ha ragione Spalletti a farlo, non so, io avrei voluto vedere i card in campo con l'Alazio perché appunto abbiamo giocato in una partita importantissima che andava vinta, potevi lasciare l'Alazio di nuovo indietro, andava a otto punti indietro e il Milan a cinque punti indietro, non dico sicuro, però molto più tranquillo per la Champions e invece adesso le due allitate sul collo qua, che ti allitano sul collo, perciò l'hai voluto vedere in campo però anche non voluto vedere in campo per come si sta comportando, perciò non so cosa pensare, ditemi voi cosa pensate qui sotto, ditemi i vostri pareri perché ho dovuto aspettare qualche giorno per fare questo video e dopo tre giorni ancora sono in confusione totale, non so ancora a chi dà ragione a chi dà torto ed è tutto a colpa di tutti perché nessuno preblocca, anche Spalletti stesso vorrebbe dire la sua versione ufficiale ma sembra che arriva lì e poi si blocca, perciò sei un coniglio di merda perché Moratti, Marotta non lo fa perché è nella posizione in cui deve stare veramente attento a tutto quello che dice, Icardi non lo fa perché finalmente, finalmente ha smesso di twitchare ogni cinque secondi, di facebook e cazzi vari ogni cinque secondi, risponde solamente sono pronto per giocare, la moglie è pronto per giocare, basta, non dicono più niente finalmente ha smesso, lui ancora continua a dire qualcosa, Spalletti che continua a buttare a bracciatine ma se la tiri, Spalletti, tirala, nel senso di che cazzo è successo almeno noi tifosi, tifosi paganti, quelli che vanno allo stadio, quelli che si abbonano, io pago Sky in Australia per l'Inter, noi tifosi che paghiamo abbiamo il minimo di sapere qual è la tua versione ufficiale, visto che sei l'unico che parla, che continua a buttare legna sul fuoco, almeno butta un bel tronco di legna vera, fallo bruciare e che sia la verità, sia quello che è successo, almeno capiamo se è colpa tua, che sei uno stronzo, colpa della società, che è una stronza, o colpa di Cardi che è un bimbo minchia, diccelo, perché oggi è solamente un casino, non si sa cosa pensare e questa cosa è ridicola, si fa prendere per il culo dall'Italia, si fa prendere per il culo dall'Europa, sappiamo che Spalletti non resterà, sappiamo che Icati non resterà il prossimo anno, che Nuova Natura magari si troverà in un ambiente migliore, si spera, ma allo stato attuale è solamente un merdaio, e chi ci rimette siamo noi, tifosi, però speriamo che adesso mercoledì entri in campo giochi, che faccia gol o che non faccia gol e stasera finisca, che facciano i separati in casa, ma che questa cazzo di telenovela, questa figa di casa Vianello, smetta, finisca, perché da tifoso non ne posso veramente più, i primi tempi era quasi divertente fare battutine, cazzi vari, adesso ha veramente rotto i coglioni, ditevi a voi che ne pensate qui sotto, scrivetevi, deluso in faccia perché basta, sono stanco.